Da Camponomadi a Parco Urbano sono passati quattro anni dalla presentazione ufficiale del Giardino Don Blasco e adesso finalmente a Saraineri l'ambizioso progetto diventa realtà. Commissionato dalla Helios Petroli di Messina è un'iniziativa privata per la riqualificazione di un'area di grande valenza ambientale che verrà restituita alla città e alla fruizione pubblica. Belvedere, percorsi nel verde, piccola pista ciclabile, parco giochi e punto ristoro oltre al consolidamento di una parte del versante sul mare rinaturalizzata perché in forte erosione. I lavori iniziati a gennaio scorso hanno riqualificato quasi 3.000 metri quadri di un territorio tra i più degradati della città. Martedì prossimo l'inaugurazione ufficiale. Ci abbiamo lavorato per tanti anni e oggi sotto gli occhi di tutti questo meraviglioso parco raccogliamo i frutti di anni di lavoro e siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo realizzato. L'obiettivo è di potenziare, ampliare e migliorare l'impianto carburante esistente mettendo il prodotto GPL che al centro città Messina mancava e contemporaneamente realizzando questo parco ad uso pubblico. Tra gli obiettivi è anche quello di dare un segnale concreto alle pubbliche amministrazioni. Pensiamo che questo possa, debba, in fondo tutta la stampa in questi ultimi giorni che si è molto interessata a questo parco ha sottolineato possa essere da sprone, da incentivo alle amministrazioni a continuare in questo lavoro di riqualificazione di uno dei posti sicuramente più importanti della città. Secondo quanto stabilito dall'allora vice sindaco Razio Miloro d'intesa con l'autorità portuale la Helios Petroli il parco urbano dovrebbe essere intitolato alla piccola Florina la bimba romena morta nel settembre 2007 a causa del crollo di un cancello situato all'interno della barra Copoli che esisteva proprio in quel punto.